Benvenuti su Reality Italiano. Un segreto che ha scosso il cuore dei fan di una delle coppie più amate dello spettacolo. Cecilia Rodriguez è incinta? Un'ombra di dolce attesa si staglia nell'aria, e i cuori sono in tumulto, in attesa di una risposta. Un'immagine magica e una storia intrigante si svelano dinanzi ai nostri occhi, portandoci in un viaggio emozionante nella vita di questa coppia adorata. È Cecilia, la magnifica showgirl, e accanto a lei il suo dolce compagno, Ignazio Moser. L'attesa sospesa nel tempo è palpabile. Poiché entrambi poggiano le mani sul ventre di Cecco, che sembra mostrare un dolce segreto, il pancino in vista, leggermente arrotondato come nei primi mesi di una dolce attesa. Un'immagine vale più di mille parole, e i fan accorsi in folla ai loro social network ne sono testimoni. In un delirio di emozioni, scrivono messaggi d'amore e congratulazioni, alimentando la speranza che finalmente il desiderio di diventare genitori possa essere realtà per Cecilia e Ignazio. Ma la verità è ancora volta nell'incertezza, perché l'ufficialità tarda ad arrivare. Non è la prima volta che il dolce nome di Cecilia è stato associato alla gravidanza, ma questa volta sembra diverso. Le foto non mentono, e il legame tra i due innamorati sembra suggerire un cambiamento nel loro destino. Il matrimonio è in sospeso. E molti si chiedono se la ragione sia proprio l'attesa di un bambino. Ciò che è certo è che l'amore che è nato nella casa del grande fratello Vip continua a crescere, resistendo alle tempeste e sorridendo alla felicità.